ciao a tutti sono antonio la teresa degli ignanesi per chi non mi conosce comunque sia volevo farvi tanti tanti auguri di un meraviglioso natale e un felicissimo 2021 come dice la teresa sempre sui palpatie paten cerchiamo di patire il meno possibile insomma in bocca al lupo alla proloco di san giorgio un abbracione grande da parte mia da parte di tutti i lignanesi da tutta la compagnia dei lignanesi ci rivediamo presto tanti tanti auguri e alla prossima ciao grazie